Buongiorno, è un momento difficile che comunque ha visto dover prendere questa decisione. Cambiare un allenatore è sempre qualcosa di poco bello, il normale me ne assumo la responsabilità perché sostanzialmente volendo paragonare una squadra di calcio a quello che può essere l'equipaggio di una nave quando il capitano si rende conto che ci si trovi in una turbolenza deve innanzitutto salvare la nave e toglierla da quella che è la turbolenza e poi naturalmente cercare di intraprendere un'altra rotta. Quindi ho deciso di adottare questa decisione perché ho ritenuto quella più valida per cercare, ripeto, di portare la nave al di fuori di quella che in questo momento è la difficoltà, la turbolenza. È naturale che ci sono poi degli atteggiamenti che un capitano deve adottare che può essere quello di lasciare la nave come i topi, abbandonarla e quindi far sì che la nave può andare alla deriva oppure accompagnare in un primo momento la nave al di fuori della tempesta, della burrasca e poi intraprendere quella che è la decisione che lui ritiene più opportuna. Ora il responsabile è qui, il colpevole è qui, naturalmente non bisogna fermarsi ad individuare il colpevole ma bisogna guardare oltre e andare a trovare soluzioni per far sì che si ripossa mettere la nave nella giusta ruta. Io, il presidente e l'amministratore delegato abbiamo un'unica linea e perseguiamo questa linea. Volendo fare un passo indietro e poi guardiamo avanti perché sennò ci viene il torcicollo noi ad oggi io sono dispiaciuto che non abbiamo potuto comunque disporre di due giocatori che io ritenevo, ritengo, riterrò importantissimi che sono Di Gaudi e Canutè. Quindi già partiamo da questo per capire che sostanzialmente non abbiamo potuto disporre di quei giocatori nel modulo che il mister Taurino, a cui va comunque un ringraziamento per il lavoro svolto e l'imbocca al lupo per il futuro, noi nel 3-4-3 del mister abbiamo comunque cominciato in maniera un po' monca, nel senso che per fortuna sia Russo, sia Ceccarelli, sia gli altri ci stanno dando una grossa mano, però era ipotizzabile da parte mia giocare con questi due atleti, i calciatori che purtroppo ad oggi sono in difficoltà anche se mi auguro che già Di Gaudi da domani possa far parte dei convocati. Detto questo sul budget, io purtroppo devo fare questi, mi tocca fare questi paragoni. Lei conosce bene Montevergine, quindi a Montevergine può arrivare, no dico Montevergine, siamo di Aveglia, non siamo di Crotone, se no avrei detto un altro, quindi per arrivare sulla cima il presidente con l'amministratore mi ha detto c'è l'elicottero e c'è la Ferrari, ma io posso anche arrivare a piedi, arrivo sempre a Montevergine, quindi c'è da capire il modus operandi del direttore o di tizio di CAI. Io ho preferito assumendomi la responsabilità perché sono qua, perché io metto la faccia, poi al di là di quello che si ne dica, e quindi non andare sempre a cercare, o fa parte del mio background, della mia scuola, perché comunque per fare direttore sportivo ci vuole anche scuola, non bisogna trovare il colpevole o trovare la zizzania, ormai siamo qua. Ripeto, il presidente mi ha potuto dare anche 80 milioni di euro in questo momento storico e aria, sono parole libertà, sicuramente non è che il presidente va in un verso e va in un altro verso. Ho ritenuto opportuno di adottare questo modus operandi che a mio avviso ancora siamo alla nonna partita, come Boscov diceva rigore è quando arbitra fischia, io dico che ad oggi siamo ancora, quindi non è una questione a mio avviso di budget, è una questione che anche voi come me dobbiamo, come oggi sto mettendo faccio responsabilità e mi sto accusando, autoaccusando e non autoassolvendomi, bisogna capire che ci sono strategie. Vedremo se la mia sarà stata una strategia sbagliata, un dato oggettivo c'è al di là di questo che sicuramente in questo momento storico non è che la fortuna ci stia utendo, però ripeto, il presidente ha detto le parole che ha detto consapevolmente come io sto dicendo queste parole in maniera consapevole, ma non c'è stata mai alcun tipo di difficoltà nei rapporti tra me, il presidente e l'amministratore delegato. Abbiamo adottato una linea e ripeto fin dalla noia che non pensavo certo che quelle scelte fatte da me al mese di agosto oggi erano scelte ad oggi non idonee e sulla mediocrità. Se fossi retti farei regina e quindi non è che è inutile, per questo dico dobbiamo cercare di guardare avanti se no non ne usciamo più. Perché? Perché è andata così, se si aveva, si aveva insomma, si bisognava, si stava cercando, si stava pensando di incominciare un progetto. È naturale che chi più di me poteva subito cominciare con Rastelli che al di là dell'allenatore siamo veramente, dire fratelli è giusto perché abbiamo un rapporto che va al di là del calcio. Da quando segnò contro il Napoli, andò a bracciare il Napoli, avendo Napoli a febbraio 2005, quindi però forse era troppo facile portare Rastelli ora da Avellino. Oggi non posso che guardare avanti e inutile se no divento l'ocorroico e diciamo sempre questo. Ora abbiamo Rastelli, così come non posso non ringraziare Raffaele Biancolino che ha dato la massima disponibilità, un ragazzo veramente eccezionale, col sangue verde. Quindi mi riallaccio a quella squadra del 2005. Quindi ora dobbiamo solo guardare avanti capendo che Rastelli dovrà svolgere un lavoro molto delicato, molto molto difficile. Il consiglio che gli ho dato è quello di lavorare sulla testa dei calciatori perché è un momento difficile dove a Avellino i tifosi non gli possiamo rimproverare niente. Quindi è il punto di partenza di questa nuova fase perché comunque stiamo sbagliando e non stiamo dando soddisfazione a questa terra. Però sono molto molto fiducioso perché Massimo non è mai stato destinatario di TSO, cioè di trattamenti sanitario obbligatorio. Quindi per prendersi questa responsabilità e per prendersi questo incarico presumo, suppongo, deduco che abbia intravisto qualcosa di buono già nell'attuale roster che ha a sua disposizione. No, no, ma dopo la conferenza non ho visto momenti, non ho parlato e ho cercato di non aumentare quella che poteva essere la pressione sui calciatori, sulla squadra, ma ripeto, bisogna parlare quando c'è una motivazione. Oggi, e così la chiarisco pure, al di là del ruolo che mi compete, era anche per far sì che dalla settimana prossima, quando il presidente a quale va dato un ringraziamento da parte mia perché comunque ha operato un altro investimento economico, quello di andare ad individuare, a sottoscrivere un contratto di un anno e mezzo con un allenatore importante come Massimo. Però non ritenevo io opportuno al momento, poi mi sembra ovvio che sono suggerimenti, può darsi che quindi procederemo anche mensilmente a dei confronti con quella che era la tecnica e quindi con me. No, ma sono... Allora, a stelle ho detto prima, non penso che abbia mai avuto problemi psicomentali, quindi per accettare il 20 di ottobre vuol dire che all'età delle garanzie già ad oggi ritiene che questa squadra abbia valore, insomma, perché può dar sicuro che si può trovare... Il mercato comincia il primo gennaio, quindi penso che al di là di ciò che verrà ad oggi, ha avuto lui stesso, si rese conto lui stesso che questa squadra non è da quinto, sesso ultimo posto, insomma, poi con i tre punti a disposizione. Per quanto riguarda Canutello, ho detto prima, io potrei dire diversamente, sono assolutamente consapevole che è una squadra che ha valori e ha valori, lo stesso Momo ha avuto problemi oggettivi, dalla settimana prossima sarà a disposizione, lui ha avuto un intervento chirurgico e purtroppo, non per sua volontà, è stato costretto a questo mese a stare fermo. Lo stesso lo do di Gaudio, un ragazzo che conosco già da quando era a Parma e si è messo subito a disposizione, ma già precedentemente. Ora non posso rimproverare a questi ragazzi niente, se non un maggiore impegno e liberarsi dalla testa perché svolgono uno dei lavori più belli del mondo che quello, insomma, del calciatore. No, ma ho detto io, ho fatto, ho fatto, quando mi sono seduto qui, ho detto a lei e agli altri che, o perché ho svolto anche attività al di là del calcio, una volta si faceva il militare, quindi, o quando c'è una tempesta ho fatto, ho parlato di nave, è semplicissimo andare via, trovare alibi, ecco, De Vito ha dovuto dire là, là, no, De Vito ha messo la faccia, De Vito è il primo responsabile, De Vito è il primo colpito. L'ho detto, dietro di me ci sono calciatori, anche Rastelli, che sono più alto di Rastelli, quindi io metto la faccia, sono convinto che la squadra mi segue perché il leader non è quello che dice di esserlo, ma il leader è quello a cui viene riconosciuto questo ruolo e quando percepisci, no, se c'hai ancora PIL, se c'hai la forza di farti ascoltare, viene ascoltato, se viene meno questo ti stai a casa, io non vedo che vudo meno questo, al di là del palo, della traversa e tutto quello che, quando riterrò, quando riterrò che ciò è verificabile sia da parte della proprietà, non è che aspetto il vivacchio col contratto, con lo stipendio che arriva standomi in campagna o in montagna, perché sono uomo di monti, ma no, mi metto da parte e dico, al momento non ritengo che ci siano queste condizioni, quando io lo riterrò opportuno, o la proprietà lo riterrò opportuno, mi starò a casa, però io non è che faccio ricatti o accetto i ricatti, al di là del ruolo che ho, sono una persona che è in mezzo alla strada, non li accetto i ricatti, non accetto assolutamente nulla, vado avanti per la mia strada, affronto tutti, non male che hai un ruolo istituzionale, non puoi metterti a, però, ripeto, essendo un uomo nato sotto la montagna, veramente, in città, proprio i monti, quindi so bene che ci sono difficoltà, insomma, so bene e per questo motivo conosco le ricette per uscire da queste difficoltà. No, assolutamente, ad oggi purtroppo non posso parlare di una squadra che sta dimostrando di essere al di sopra della sufficienza, ma al di sotto della sufficienza. È naturale che ci vuole, ora è cambiata la guida tecnica, quindi ci confrontiamo col mister, ci confronteremo e ci siamo resi conto che c'è, diciamo, ad oggi il, abbiamo un compito, quello di valutare, di guardare, di prendere atto di ciò che i ragazzi potranno mettere in campo. Io sommessamente, umilmente, ad oggi sono come una palla di cristallo in mezzo a bombe di acciaio inossidabile, quindi sono debolissimo, però penso che sta squadra a valori e da parte nostra ora dobbiamo rendercene, dobbiamo, noi dico parte tecnica, dobbiamo valutare questa proprietà che ritengo una proprietà importante, io dico fuori categoria, sicuramente non si farà trovare impreparata nel caso in cui ci sia da procedere a degli inserimenti, a degli innesti. Però molto spesso bisogna guardare prima in casa quello che c'è e poi naturalmente ci renderemo conto degli aggiusti da fare. Oggi è un dato oggettivo, incontrovertibile che la squadra non ha espresso valori, nel senso che un po' con gli infortuni, un po' con gli altri, deve comunque per forza migliorare, però sono fiducioso negli uomini che compongono questa rosa e sono convinto che ne usciremo. No, no, ma l'ho detto già che oggi io mi trovo in una posizione di, diciamo, possiamo definirla una pallina di vetro e quindi quello che dico a poco, a me mi hanno insegnato che il tempo è galantuomo e dà le risposte giuste. Scarso direttore sportivo, però la cosa bella è che quello che si dice a Dicunt, Dicitur non mi appartiene. Oggi per il ruolo che ho, quello direttore sportivo, non posso rispondere, fare, dire oggi Ravellino ha otto punti e direttore sportivo sono io, gli altri sono dietro di me e andrò avanti. Questo mi auguro sia da sprone per la squadra, per il mister, perché oggettivamente sono in grossa difficoltà, ma la nave non l'abbandono, non l'abbandono, ma non lo so se non ci fosse stato Rastelli, ma la proprietà penso che per avallare la scelta mia di Rastelli è consapevole che era una scelta. Poi non è vero altre cose che ho sentito gli allenatori, tutti quelli, gli allenatori hanno chiamato loro per venire ad Avellino, per questo dico l'unica piccola, piccola luce in fondo al tunnel che vedo, perché allenatori di serie B che chiamano per venire ad Avellino o che comunque, Brocchi, Brocchi era disponibile a venire ad Avellino, ho sentito che non è che, già il modo di porsi così, già non vuol dire che io non dico fandonie, ma non per giustificare ciò che accade, perché bisogna essere consapevoli che gli errori sono stati fatti, ora bisogna guardare avanti, altrimenti non ha senso, ma anche perché ora bisogna guardare avanti e essere consapevoli che c'è qualcosa da cui ripartire, altrimenti non stavo qua oppure non saremo qua e ce l'andiamo a casa. Io ho rapporti con società, con direttori sportivi, quindi Rastelli è stato contattato, ci sono stati tempi purtroppo che ho sentito anche l'allenamento che è stato svolto agli ordini del mister Pacotto e di Pietro Laporta, perché ci sono dei tempi tecnici per poter procedere alla scelta di un allenatore, quindi ci sono allenatori che avevano una posizione contrattuale e altri che erano circolati, quindi bisognava valutare, è normale che il primo allenatore che ho chiamato è stato Massimo Rastelli, quindi il primo allenatore dove sono andato a casa sua, che la conosco bene, a prendere un caffè e quindi mi sono seduto a tavolo e ho detto vogliamo cercare di andare dove dobbiamo andare insieme e vediamo, però ho detto a Ieparello prima, c'erano altri allenatori che hanno dato l'ambia risposta, un fatto di bravasi, ormai la bravasi non si sa farla più, essendo avvocato, almeno questo penso di conoscere, quindi ho detto Brocchi perché sicuramente con Cristiano, con il ministro ci siamo sentiti, c'era la disponibilità, però voglio dire ora parliamo del nulla, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo sicuramente, ma la proprietà ha un direttore sportivo, quindi non ha che decide, ho sentito cose che non riguardavano il calcio sub, non c'entrano niente altre, io non prendo, io non è che sono avvocato e prendo l'allenatore perché è avvocato, l'ordine degli avvocati Avellino mi dice prendi, no, quindi questo ha capito a che mi riferisco, la politica è un'altra cosa, io faccio calcio e mi attendo una risposta, il gruppo sa bene che comunque deve fare punti e deve un attimino rimodulare quella che è la mentalità, dobbiamo acquisire la mentalità di una squadra che è in difficoltà, aiutarci e devono capire che comunque da parte nostra c'è tutta la volontà di uscire da questo momento, quindi stiamo con loro, ma così come i tifosi, così come voi, penso che possiamo dire, il tifoso in questo momento storico, nonostante tutto sono 200 a Viterbo, sono venuti e l'appello è proprio questo, nonostante la, tra virgolette, difficoltà che il tifoso oggi ha di riconoscersi in questi colori, di starci vicino perché penso che al di là di me, però questa Avellino va sostenuta a prescindere da tutto e tutte, quindi bisogna loro devono capire che in questi momenti di difficoltà chiedo un attimo, tra virgolette, di tregua, che non è una tregua, diciamo, no incondizionata e a tempo indeterminato, ma è una tregua a tempo determinato. No, assolutamente, ho detto già prima, quindi non so quasi, non c'è la legge uguale per tutti dietro, ma penso che... ma siamo consapevoli che al di là di domani o di là dei prossimi noi ci giochiamo tutto, cioè quindi ci si gioca credibilità, onorabilità, ci si gioca al di là del calcio perché comunque il calcio può passare, però per questo dico c'è la consapevolezza di tutto questo, siamo consapevoli che avremo di fronte grossi, lui forse meno rispetto a me, ma avremo grossi grossi ostacoli, però la vita è fatta di questo, gli attributi o ce li hai o li racconti, noi pensiamo di averceli e non di raccontarli, per questo andiamo avanti. Ma a me non mi serve, i contratti sono carta straccia, ad oggi io sono il direttore dell'Avellino, vediamo quello che succede, ma non cambia nulla, anche se avessi avuto tre anni, quattro anni, non cambia nulla il mio contratto, oggi siamo in una situazione di difficoltà e quindi di conseguenza il contratto lascia il tempo che trova, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare, lottare fino alla fine e questo è quello che ci può, ci deve far capire. L'importante è evitare queste cose che non aiutano, nel senso il fatto delle dimissioni, queste cose, io capisco che bisogna sempre trovare il capo espiatorio nei rapporti, però ora guardare a queste cose dietro, nel momento in cui la minaccia, proprio come persona fisica, non ho mai gradito minaccia, non ho mai gradito ricatti, quindi in questo momento storico passare che io abbia ricattato, abbia minacciato la società è la cosa più brutta, ma a livello etico. Poi è naturale, come ho detto a festa, è normale che se una società mi dà l'ok per Rastelli, penso che viene meno questo discorso, ma è brutto passare perché qualcuno, passare così, io sono una persona che ho dei valori, ma soprattutto... concretamente se la società prendeva Brocchi, ti hai visto che facciamo? Non c'era? sempre, ma Brocchi non sarebbe venuto, ma Brocchi l'ho chiamato io, c'è, qua c'è un problema di fuoco, l'ho chiamato io, no no no, ho chiamato io, ma altri allenatori si sono proposti, Brocchi, Brocchi, non Brocchi, ma mo dico queste cose, no e questo non aiuta, come no? non vogliamo con le vittime, però non vogliamo con le vittime, per questo quando dico che non ne vale la pena, va bene, no no, qua è notizie false, va bene, colpa, ho capito, va bene, va bene, va bene, ma da Taurino, non lo so, diciamo, il mister, le scelte due punti, non è che più metti attaccanti, non è questo il problema, il mister sicuramente su delle scelte, ma forse anche di uomini, con me non ha avuto, agli ultimi periodi non c'è stato feeling, però ora non è che, ora guardiamo avanti, se vogliamo guardare avanti, se no dobbiamo pensare pure a Gautieri e pensiamo a dietro, che devo dire? Io ho parlato di elicottero, è il termine quello, per andare a Montevergine quanto costa andare in elicottero e quanto costa andare a piedi, a me mi sembra che, ma che mai non voglio, io ripeto, una cosa che è importante capire, al di là del, il direttore sportivo non cerco il consenso, non è un politico che io devo andare a chiedere il consenso, il direttore sportivo adotta una linea e va avanti, quindi il fatto di Caronte era questo, cioè cercherò di evitare di essere il Caronte economico, finanziario dell'Avellino, questo dice per cui, ma non è detto, ma non è, allora ecco poi devo andare indietro, quando l'Avellino ha vinto il campionato di Serie C con Massimo Rastelli, giocava con 5 under, non costa nulla perché giocava con 5 che sembravano scappati di casa, questo volevo dire, non è, non è, ecco qua, no ho capito, sì sì ho capito, no no no, no ma esatto, diciamo che i moduli, ad oggi dobbiamo uscire dai bassi fondi della Lega Pro, Girone e C, ad oggi, e poi dobbiamo programmare quello che è il sogno di tutti, ma soprattutto dal di là dei tifosi, la proprietà che merita avere qualche sorriso sta avendo purtroppo soltanto mortificazioni e contestazioni, quindi il compito mio principale della squadra, perché penso che la squadra mi segue e sa bene quello che dobbiamo fare, è cercare di uscire da questi bassi fondi e andare avanti, soprattutto programmare in che modo, innanzitutto oggi guardando partita dopo partita, poi guardando al mercato di gennaio e poi guardando a maggio. Non lo so, potrebbe essere un'ipotesi, nel senso che si azzera tutto, quindi si azzera anche abbiamo tre giocatori fuorilista validi che in quel momento storico di agosto ci si è visti insomma, bisognava fare delle scelte per forte e diverse, perché in qualsiasi momento può essere riaggregato, per gli altri due fuorilista possono essere riaggregati solo nel caso in cui si proceda all'estromissione di un altro tesserato. Il mister a carta bianca, come la via Taurino, quindi ad oggi faremo allenamento nel pomeriggio e quindi sapremo anche qualche infortunato a verificare ancora, quindi vedremo che succede.